Questa è una storia che su YouTube Italia non troverete perché riguarda di un bug a un sistema informatico che ha causato l'arresto di centinaia di persone, tutte innocenti e anche alla distruzione di quasi 700 famiglie perché le persone accusate si sono ritrovate a pagare dei danni che non avevano causato e si pensa che pure siano successi almeno 4 suicidi Questa storia è iniziata nel 1994 e ancora se ne parla per il semplice motivo che non è ancora finita è uno degli scandali più pesanti che sono successi qua nel Regno Unito, per chi non lo sapesse, io vivo nel Regno Unito da diversi anni e oggi parliamo del sistema Horizon di Post Office Fare questo video da un punto di vista informatico non è stato facile Online si trovano notizie sulla vicenda, a voglia, se ne trovano tantissime ma sono scarsi dettagli informatici Tuttavia, qualcosina sono riuscito a trovarla perché sono poi, diciamo, saltati fuori durante il processo Direi di iniziare dalle basi In Italia c'è Poste Italiane azienda pubblica che si occupa della vendita dei servizi postali nonché anche delle spedizioni vere e proprie Quando ti arriva una raccomandata, te la spedisce Poste Italiane ma la raccomandata la prendi sempre da una filiale di Poste Italiane cioè dall'ufficio postale fin qua, tutto semplice Nel Regno Unito non è così Chi si occupa del servizio logistico di spedizione e della vendita dei servizi postali sono due aziende diverse Ovviamente operano nello stesso settore ma sono comunque due aziende diverse Da un lato abbiamo la Royal Mail che si occupa solo della logistica del servizio postale cioè i postini che mi portano qua alla posta sono tutti di Royal Mail Azienda pubblica fino al 2010 che poi a poco a poco è stata privatizzata e dal 2015 è completamente privata quindi Royal Mail è privata Dall'altra parte abbiamo Post Office Limited Post Office si occupa della vendita dei servizi postali tipo vendere i franco bolli vendere diciamo il prodotto di spedizione diretta alle opacchie e anche dei servizi finanziari tipo ti permette di aprire un conto bancario a differenza di Royal Mail la Post Office è un'azienda statale Nonostante sia un'azienda statale il 99% delle filiali non lo sono questo è un dettaglio fondamentale per questa storia la Post Office opera con un modello franchise se io voglio aprirmi un ufficio postale chiamo Post Office firmo un contratto con loro che pagando una certa cifra mi forniscono tutto quello che mi serve nel mio negozio per operare sotto Post Office ma questo non mi rende un dipendente di Post Office io sono un imprenditore che opero sotto un'azienda che mi fornisce il marchio i computer, i franco bolli insomma tutto quello che mi serve per operare come Post Office per completezza solamente l'1% delle filiali sono gestite in maniera diretta cioè sono dirette della Post Office il restante 99% sono gestite da persone normali come me e voi che opera in franchise il capo di una filiale viene chiamato qua Post Master non c'è una vera e propria traduzione in italiano quindi ci teniamo questo termine anglosassone perché ci tornerà utile fatta tutta questa promessa possiamo iniziare con i fatti che partono dal 1994 e che ancora la vicenda giudiziaria non si è conclusa del tutto dopo 30 anni ancora va avanti e quindi iniziamo nel 1994 il governo britannico di allora guidato dal primo ministro John Major voleva informatizzare il sistema con cui lo Stato forniva certi sussidi ai cittadini tra gli altri benefici che questo comportava diciamo che questa operazione che questo progetto doveva portare il motivo per cui lo Stato voleva investire in questo progetto è perché si stimava che avrebbe ridotto di ogni anno le frodi generali dai cittadini che percepivano sussidi anche diciamo senza averne diritto di 150 milioni l'anno quindi fanno un investimento per diciamo ridurre le frodi di questo tipo fanno un bando che viene vinto da un'azienda chiamato ICL Pathway Limited azienda che venne fondata per questo scopo che è una sussidiaria della Fujitsu che credo che non abbia bisogno di presentazioni lo sviluppo di questo sistema informatico andò a puttane quindi non giriamoci intorno nel 98 il progetto era indietro di due anni e nel 97 quando cambiò il governo sotto Tony Blair si sono ritrovati con questa patata bollente Stephen Bayers che era uno dei ministri del governo Blair definì all'epoca la relazione tra i partner di questo progetto come disfunzionale ed effettivamente il nuovo governo si ha rotto le scatole e voleva chiudere i rubinetti sì perché una cosa che non vi ho detto il finanziamento per questo progetto di informatizzare il sistema di pagamenti dei sussidi statali era più di un miliardo di stelline so soldi è come se so sordi dopo tante lunghe negoziazioni la Fujitsu nel 99 riuscì a trovare un compromesso quello di utilizzare questo sistema non più per il sistema dei sussidi statali ma per informatizzare le poste quindi post office che allora usava tutto diciamo su carta e fu così che nacque il sistema Horizon nel 99 il sistema è stato introdotto in alcune filiali di post office a poco a poco il sistema è stato installato in circa 10.000 filiali su 70.000 che erano sparpagliate in tutto il territorio nazionale dopo alcuni anni è una spesa di un miliardo di stelline il sistema fu installato in circa 18.000 uffici postali attenzione un miliardo solo per installarlo quindi per il deployment lo sviluppo fu di circa 900 milioni di stelline quindi hanno speso quasi 2 miliardi di stelline per svilupparlo e introdurlo nel territorio nazionale se avete letto il titolo di questo video oppure vi ricordate la mia apertura avete capito che questo sistema aveva dei bug allora a confronto Windows Mi era solido come una roccia ho fatto un video su Windows Mi cioè questo qua che se volete ve lo potete andare a recuperare per capire di cosa sto parlando così date un taglio alle mie parole il problema di questa storia non è tanto il sistema Horizon che era buggatissimo fino al mitollo osseo può capitare che il sistema informatico sia buggato perché si sa sono cose molto complicate e i bug possono capitare Microsoft ci ha fatto una carriera su questo tuttavia il problema tardine di questa storia è come è stata gestita la situazione che è stata gestita a cazzo di cane aprendo una vicenda giudiziaria che ancora oggi è in corso dunque quali erano i bug e come è stata gestita la cosa da Post Office Limited è meglio vederlo dopo la sigla benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia io sono Valerio e oggi ripercorriamo lo scandalo di Post Office che ha afflitto e sta affliggendo ancora ora il Regno Unito negli ultimi 30 anni a schermo state vedendo una carrellata di immagini di articoli di giornali per farvi capire la portata di questo scandalo perché io non sono sicuro che in Italia se ne sia parlato quindi prima di proseguire non dimenticate di lasciare un like a questo video iscrivetevi al canale e lasciate poi un commento per farmi sapere la vostra opinione su questo caso e quindi riprendiamo come vi avevo anticipato il sistema Horizon era inaffidabile sotto ogni punto di vista tuttavia questi bug avevano un unico comune denominatore facevano figurare degli ammanchi nel bilancio delle filiali in realtà soldi non ne mancavano ma c'erano degli errori su come alcune transazioni potevano essere registrate all'interno del sistema faccio infatti degli esempi che ho dovuto scavare un po' online per trovarli molto spesso gli uffici postali hanno più casse immaginiamo che abbiamo due casse quindi quello che spesso può accadere è che magari in una cassa stanno per finire con tanti e quello che si fa che lo fanno tutti anche i commercianti in Italia è quello di spostare i soldi da una cassa e li metti nell'altra cassa per continuare le operazioni della giornata lo fanno tutti l'importante è registrare lo spostamento di denaro tra cassa 1 e cassa 2 e problemi non ce ne sono in teoria perché se usi Horizon ci sono problemi supponiamo che io volessi spostare 100 sterline da cassa 1 a cassa 2 magari ne registrava 2 in realtà erano stati spostati 100 sterline ma lui ne registrava 200 e questo era bug dato che magari perché l'operatore cliccava due volte lo stesso tasto ricordiamoci che siamo prima degli anni 2000 e molte persone non erano molto in grado di utilizzare un computer però comunque si parla di roba molto semplice magari cliccavano due volte il tastino e comunque la post office era tenuta a fare del training che a quanto pare questo training non è stato fatto manco tanto bene però comunque loro magari per qualche motivo cliccavano il tasto magari pensavano che il sistema si era piantato lo premevano magari un'altra volta loro vedevano che una transazione era stata fatta che 100 sterline sono state spostate loro vedevano solamente una transazione ma internamente ne registrava due se non addirittura di più Horizon utilizzava dietro le quinte un sistema di contabilità se durante una qualunque transazione indipendente voleva annullare l'operazione per esempio premento canci o esc quello che accadeva è che effettivamente a schermo l'operazione veniva terminata quindi per l'operatore tutto andava bene ma magari già l'aveva scritta sullo registro contabile quindi su quel sistema che tiene la contabilità della cassa quindi il sistema contabile si ritrovava con delle transizioni che poi sul terminale dei postmaster non figuravano però quelle poi venivano conteggiate perché quando l'operatore premeva esc non faceva tutte le operazioni di rollback che si fanno quando si annullano delle transazioni un altro bug era la sincronizzazione dei dati tra le filiali e i server centrali di Post Office Limited se per qualche motivo c'erano dei problemi di comunicazione che potevano capitare ogni notte allora quella sincronizzazione non veniva fatta bene e quindi questi altri bug del sistema convergevano come vi dicevo poco fa in ammanchi di cassa la Post Office aveva messo a disposizione di tutte le filiali che avevano il sistema Horizon un numero di assistenza nel caso in cui ci fossero stati problemi e quindi adesso vi consiglio di prepararvi perché da qua in poi iniziano solo disagi quando i postmaster chiamavano per dire che c'erano dei problemi con il loro sistema non solo a loro non veniva data assistenza peggio gli dicevano che nessun altro stava avendo problemi con Horizon è che loro dovevano pagare di tasca loro qualunque buco nei loro bilanci e questa cosa non si ripeteva una sola volta andò avanti per anni dal 99 al 2015 circa 4.000 postmaster sono stati portati in tribunale per frode finanziarie dove circa 900 di loro sono stati condannati e più di 200 di loro sono andate addirittura in caccia tutti quelli condannati non solo hanno dovuto pagare di tasca loro tutti gli ammanghi che figuravano in questo sistema Horizon buggatissimo fino al bidollo ma si sono pure ritrovati senza lavoro perché la Post Office quando li denungiava e li portava in tribunale gli ritirava il contratto di franchising e quindi loro non potevano più operare almeno non potevano più operare come Post Office una follia Post Office fece una carneficina in termini giudiziari rovinando migliaia di famiglie britanniche tuttavia un uomo non si piegò Alan Bates un postmaster del Galles dove nel 2000 lui aveva avuto il classico problema in cui gli mancavano circa poco più di 1000 sterline dal suo terminale glielo comunicò a Post Office e loro dopo due anni gli risposeron che lui non gli doveva nulla e che il suo manco gli fu semplicemente condonato però senza dargli nessuna spiegazione nonostante questo negli anni a seguire lui continuò ad avere problemi con Horizon e si rifiutò di firmare i bilanci settimanali che doveva poi ridare a Post Office Ltd e si rifiutò di metterci di tasca sui soldi tuttavia altre persone furono molto più sfortunate di lui come vi dicevo poiché la voce si era mai sparsa e stava arrivando anche all'opinione pubblica di all'epoca allora Alan Bates fondò la JFSA una campagna che accoglieva più di 500 postmasters e iniziò ad aumentare il dibattito pubblico sulla faccenda che a poco a poco la faccenda arrivò alle orecchie dei politici che iniziarono a prendere provvedimenti e ordinarono a Post Office Ltd di fare chiarezza sulla faccenda fu nominata un'azienda indipendente chiamata Second Sight che aveva il compito di capire cosa realmente stesse accadendo questa azienda prese l'incarico di fare chiarezza sulla vicenda solo se Post Office avrebbe fornito aiuto nella ricerca della verità e negli anni, in questi due anni la Second Sight diciamo stava iniziando a trovare qualcosa che non andava e da quel momento in poi la Post Office si iniziò a chiudere la riccio infatti dopo due anni qualcosa saltò fuori che possiamo riassumere in poche parole la Post Office non era un'azienda trasparente con i Post Master quindi e invece di focalizzarsi sul risolvere i problemi che il sistema Horizon aveva era più impegnata a rientrare delle perdite perdite perché non c'erano perdite con questo documento di Second Sight e anche altri la GSFA fondata da Bates trovarono degli avvocati e portarono in causa la Post Office se non ricordo male nel 2017-2018 durante il processo è emesso dei problemi di Horizon e l'incompetenza e mala fede dei vertici di Post Office hanno vinto la causa! fine della storia? no, no, no perché ovviamente oltre il danno ci fu la beffa lo studio legale che appoggiò la Justice Force Master Alliance era stato finanziato da investitori privati in effetti la Post Office è stata condannata in sede giudiziare al pagamento di 58 milioni di sterline di cui 46 milioni andarono agli investitori che avevano finanziato tutte le spese legale per portare in tribunale la Post Office quindi sono rimasti 12 milioni di sterline che si dovevano dividere più di 500 Post Master infatti ciascuno di loro spettarono circa 20 mila sterline una miseria se considerate che sono passati tipo 20 anni e queste persone hanno sofferto un esito positivo di questa sentenza in effetti c'è stata al 2 febbraio di quest'anno quindi dal mio punto di vista è ieri perché oggi siamo in 3 100 sentenze di Post Master condannati sono state ribaltate nel 2023 il governo britannico dichiarò che avrebbe istituito un fondo per risarcire tutti quei Post Master che quando furono condannati si sono ritrovati con le sendenze ribaltate potevano accedere a questo fondo come forma di compensazione il canale britannico ITVE ha fatto una miniserie di 4 episodi chiamata Mr. Bates vs the Post Office che racconta tutta la vicenda ovviamente con un po' di dramma televisivo però racconta tutta la vicenda ci sarebbero altri dettagli dal punto di vista legale di cui parlare ma secondo me è meglio concluderla qua Rishi Sunak, l'attuale primo ministro del Regno Unito definì tutta questa faccenda come il più grande errore giudiziario della storia di tutto il Regno Unito benissimo pinguini fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di tutta questa faccenda e fatemi anche sapere se la sapevate cioè fatemi sapere se è arrivata persino in Italia non vedendo i giornali italiani io non ne ho idea grazie come dal solito per aver trascorso il vostro tempo qui con me e ci vediamo alla prossima ciao chilo grazie a tutti